Un ricovero di due giorni rimandato troppe volte per impegni politici ed istituzionali. Finalmente, dopo l'insediamento delle Camere e il giuramento del nuovo Governo, il Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli ha deciso di non rimandare oltre e ha scelto la struttura dello Iov di Padova per un ricovero ospedaliero di due giorni. Il Ministro ha comunicato con una nota il suo ricovero per alcuni controlli all'Istituto Oncologico Veneto di Padova. Dopo tanti e anche troppi rinvii, prima per il deposito del simbolo, poi per quello delle liste, poi per la campagna elettorale, poi per l'insediamento delle Camere e la formazione e il giuramento del Governo, alla fine sono riuscita a fare il mio ricovero ospedaliero di un paio di giorni. In ospedale Calderoli ha incontrato il Presidente del Veneto Luca Zaia, con il quale ha detto «abbiamo lavorato sull'autonomia». Anche il Governatore ha ringraziato il Ministro, precisando che è stato un incontro dove si è colta l'occasione per parlare dell'obiettivo comune, quello di accelerare il percorso istituzionale verso l'autonomia. Prossimo appuntamento tra i due esponenti della Lega, mercoledì a Roma al Ministero per un incontro formale con gli altri Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per definire le tappe per arrivare all'autonomia delle tre Regioni.